Montepaone e Borgo, in centinaia al cinquantesimo anniversario di sacerdozio di Don Gregorio Montillo. Dopo la festa con la comunità di Davoli si è tenuto il secondo incontro a Montepaone e Borgo per festeggiare insieme i 50 anni di sacerdozio di Don Gregorio Montillo, accolto tra gli applausi calorosi di amici, parenti, parroci dell'associazione, dai carabinieri e dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Migliarese. Tanta l'emozione per Don Gregorio Montillo che non si aspettava tutte queste iniziative, sia di Davoli che di Montepaone. Tanti gli interventi e soprattutto i doni consegnati al parroco, attorniato da una decina di colleghi, a fine serata degustazione dei prodotti tipici locali, preparata dalle donne del luogo.